è il pezzo forte veramente di tutti i costumi eccoci ritornati con un nuovo video, oggi video recensione di questo già adesso inizia a intravedere che sembrano più volumizzate delle mie grazie a tutti ciao tesori eccoci fino a che avete ritornato con un nuovo video, oggi sono felicissima perché parliamo di outfit signi di moda però anche gli anni 70 un po' questi abitini un po' da passi bravo non ci si aspetta, il maio non si è aperto ma in realtà è aperto ciao tesori, oggi siamo qui in esterna per un nuovo video di outfit ciao 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 ciao